Iniziamo dal mese che verrà, che mese attende la futura? Un mese di grandi sacrifici per tutte, abbiamo grosse aspettative per la seconda fase anche se ci manca un punto fondamentale, ma lavoreremo duro e di più rispetto all'inizio per formare un gruppo più coeso di quello che abbiamo avuto la prima fase. Una teramana che gioca con la squadra di Teramo del Progetto Volley in Serie B2, un campionato nazionale, che cosa significa per te? Per me significa tanto ed è un orgoglio anche giocare a Teramo in B. Penso che è il primo anno di B per molte di noi, lo stiamo reggendo bene, direi abbastanza bene tutte, quindi sperché siamo un bel gruppo, lavoriamo insieme, insomma siamo molto coese, stiamo molto insieme e bene. Che campionato è stato questo che ha visto dieci giornate disputarsi per la futura? Te lo aspettavi così? Sì, è stato un bel campionato, ricco di sconfitte e anche vittorie, emozionanti soprattutto, anche la sconfitta in casa contro Porto San Giorgio, che è la prima in classifica, comunque è stata una bella partita, ci siamo divertite tutte, anche se alla fine è mancato qualcosa in più, però è stata una bella prima fase, sono contenta di me e delle mie compagne perché siamo un bel gruppo e possiamo fare tanto.